Come sapete quando parliamo di qualità dell'aria indoor per l'Organizzazione Mondiale della Sanità oggi parliamo di uno dei principali determinanti per gli effetti avversi sulla salute proprio perché adesso tutta la nostra generazione viene definita generazione indoor perché si trascorre all'interno degli ambienti tipicamente chiusi la stragrande maggioranza del tempo. E questo rappresenta come vedete per l'Organizzazione Mondiale una grande preoccupazione. Parliamo di un tema che purtroppo è molto antico era quello che alla fine degli anni 70 ancora una volta l'Organizzazione Mondiale della Sanità richiamava e identificava come sindrome dell'edificio malato. Il problema è che l'assenza spesso di atti legislativi dei paesi che poi chiaramente rallentano quelle che sono le azioni di prevenzione nei rispettivi programmi di prevenzione. fanno sì che la gente i cittadini hanno una maggiore attenzione a quello che succede all'esterno ovvero all'inquinamento dell'aria outdoor senza sapendo spesso che all'interno degli ambienti più frequentati come possono essere le abitazioni, gli uffici, le scuole, gli ospedali ma anche i mezzi di trasporto. Abbiamo la stessa tipologia di inquinanti e spesso come vedremo con concentrazioni che sono nettamente superiori rispetto a quelle che si registrano normalmente in ambienti esterni. Se associamo questo grande tempo di permanenza all'interno degli edifici vi rendete conto come oggi questo tema rappresenta il tema centrale della prevenzione che tutti i paesi dovrebbero adottare anche seguendo quelle che sono le indicazioni ormai dell'Organizzazione Mondiale della Sanità. Questo per far vedere spesso non ci facciamo molto caso rispetto a quelli che sono tutte le sorgenti che a vario titolo noi attiviamo nel corso della giornata e che sono presenti all'interno dei nostri edifici che spesso presentano delle emissioni che differiscono che possono essere nell'immediato quando parliamo per esempio di prodotti per la pulizia o per la detergenza o anche quando si fanno interventi di ristrutturazione ma possiamo avere anche emissioni sul lungo periodo spesso quelle più importanti come è stato nel caso dei prodotti a base di amianto. Chiaramente come vedete oggi dobbiamo fare uno sforzo importante perché su questo tema abbiamo un'ignoranza di fondo anche perché la stragrande maggioranza delle iniziative dei nostri paesi hanno riguardato la qualità dell'aria outdoor all'esterno con tutta una serie di azioni di prevenzione e sorveglianza mentre tutte le attività che riguardano gli ambienti indoor ancora adesso vengono viste dalla stragrande maggioranza della popolazione come delle semplici attività di ricerca. Purtroppo non è così noi abbiamo fatto tutto un percorso nel nostro paese cercando sempre di rincorrere quelle che sono state le iniziative dell'Organizzazione Mondiale della Sanità definendo cosa si intende per ambienti indoor quindi sono tutti gli ambienti dove non si svolgono attività di tipo industriale e artigianale ambienti che sono caratterizzati prevalentemente da tutta una serie come abbiamo detto di sorgenti che emettono tre grandi famiglie di inquinanti quindi inquinanti di natura chimica conosciamo tutti in casa quello che può essere l'utilizzo dei prodotti per esempio per la pulizia o l'acetone o gli alcoli sono tutti inquinanti legati alla famiglia dei composti organici volatili. Abbiamo tutto il problema degli inquinanti biologici che sono emersi in maniera preponderante negli ultimi mesi e poi abbiamo il tema in alcune aree del nostro paese legata al tema del radon. Come vedete abbiamo un mix di queste sostanze che come dicevamo si presentano in concentrazioni che normalmente sono superiori rispetto a quello che si registra all'esterno quindi in ambienti outdoor. La tipicità poi dell'inquinamento dell'aria indoor è che noi non abbiamo un'esposizione di tipo inalatoria come succede quando stiamo all'interno degli ambienti ma all'interno degli ambienti indoor come diciamo noi abbiamo un'esposizione multifattoriale che non è solamente inalatoria ma spesso è di natura dermica venendo a contatto con tutti questi prodotti che costituiscono il nostro ambiente costruito e spesso se abbiamo bambini anche attraverso l'ingestione. Quindi abbiamo un effetto cocktail che ancora di più riesce a superare quelle che possono essere le nostre barriere naturali. Per questo sempre di più dobbiamo attuare programmi importanti di prevenzione. Molti di questi effetti sono effetti spesso di breve termine. Quando facciamo degli incontri spesso si evidenziano queste situazioni legate a una maggiore distrazione o a un mal di testa o un affaticamento classico legati proprio all'incremento del famoso bioeffluente ovvero della CO2 ma abbiamo anche tutta una serie di effetti a breve termine spesso legati all'utilizzo non molto corretto dei prodotti di largo consumo per la pulizia e la detergenza a cui si associano spesso una non corretta gestione dei sistemi di efficientamento energetico, dei sistemi di ventilazione meccanica controllata. Ma molti di questi effetti purtroppo sono anche sul lungo periodo con tutta una serie di criticità su tutte quelle persone che come vedete spesso hanno una sensibilità individuale molto accentuata o che fanno uso di farmaci per altre patologie. Noi in questi anni stiamo cercando di lavorare su quella che noi chiamiamo onda culturale ovvero si è fatto tantissimo sul tema dell'inquinamento dell'aria outdoor, quindi dell'aria ambiente esterna molto poco si è fatto sul tema dell'inquinamento dell'aria indoor e oggi mi fa piacere che l'ILO, l'organizzazione internazionale sul lavoro ha dedicato ormai da qualche anno una giornata proprio sulla salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro. Quindi abbiamo la necessità sempre di più di aumentare questa consapevolezza del tema della salute all'interno dei nostri ambienti. Il problema è che l'errore che noi diciamo nasce dal fatto, dall'equivoco che spesso i riferimenti che vengono utilizzati o quelle che sono le indicazioni che vengono utilizzate per la gestione di questi ambienti fanno riferimento al tema degli ambienti industriali e di conseguenza se queste indicazioni vanno bene per gli ambienti industriali a maggior ragione vanno bene per gli ambienti indoor. Purtroppo non è così perché come sapete gli ambienti indoor sono gli ambienti dove abbiamo la forte presenza di persone che presentano delle vulnerabilità, spesso non riescono a interrompere l'esposizione quando si termina il famoso turno di lavoro, non hanno dispositivi di protezione individuale, non conoscono quelle che sono le caratteristiche della qualità dell'aria. In Italia si sta facendo un grosso sforzo per comprendere o iniziare a conoscere quelle che sono le situazioni di inquinamento all'interno degli ambienti indoor. Abbiamo ancora tutta una serie di criticità che speriamo di colmare nel breve periodo con tutta una serie di iniziative. Il nostro documento che domani avrà la revisione proprio per accompagnare tutte quelle aziende nella fase 2 quindi con la riorganizzazione delle procedure per rendere fruibili i luoghi prevalentemente di lavoro fanno riferimento a questi tre periodi, ovvero la riduzione delle sorgenti proprio alla fonte, lavorare molto su quella che sarà l'utilizzo di sistemi di ventilazione forzata, chiaramente in quelle strutture dove sono dotati di sistemi di ventilazione forzata ma lavorando molto sul tema del ricambio naturale dell'aria e poi richiamando quello che deve essere un uso molto più consapevole di tutti i prodotti per la detergenza, pulizia e disinfezione. Nelle prime giornate proprio di intervento legato al SARS-CoV-2 abbiamo avuto tutta una serie di richieste proprio dalle strutture sanitarie che venivano invasi da utilizzi spesso impropri di tutti questi prodotti creando una maggiore vulnerabilità proprio ai pazienti che presentavano vulnerabilità. Una riflessione che stiamo cercando di fare al nostro paese ma a tutta la Commissione europea quindi a tutti i paesi della regione europea è quello legato al tema dell'efficientamento energetico. In questi anni si è preferito ridurre quelli che erano i consumi energetici perché la gente aveva sin da subito un ritorno economico in bolletta scaricando a carico del Servizio Sanitario Nazionale tutte quelle patologie che erano e che sono collegate spesso alla cattiva qualità dell'aria. Quindi nel nostro attuale documento e come dicevamo domani avrà una nuova versione proprio per aiutare la parte produttiva del nostro paese a riprendere gradualmente le attività lavorative. Facciamo una netta distinzione di cosa si intende per ambienti domestici e per ambienti lavorativi. Abbiamo evidenziato il ruolo centrale del ricambio dell'aria naturale spesso viene considerata un'azione che non porta assolutamente a dei vantaggi ma già la semplice apertura delle finestre o dei balconi per un numero di volte ripetuto nel corso della giornata, chiaramente in funzione degli utilizzi che si fanno l'interno degli ambienti aiuta a ridurre, diluire, rinnovare quello che è la qualità dell'aria che tutti noi respiriamo. Abbiamo cercato anche di fare una netta distinzione di quelle che sono le indicazioni legate alla pulizia all'interno degli ambienti domestici per quanto riguarda le superfici più toccate rispetto al tema dei servizi igienici, chiaramente indicazioni che risentono di quelle che sono le caratteristiche di vitalità del virus su molte delle componenti che costituiscono il nostro ambiente. Abbiamo dato, come dicevamo, indicazioni anche su quelle che devono essere le caratteristiche di qualità dell'aria all'interno degli ambienti lavorativi e molte di queste indicazioni fanno riferimento alle attività del gruppo di studio nazionale inquinamento indoor che il nostro istituto ha attivato oltre dieci anni fa proprio per cercare di dotare il nostro paese di tutta una serie di strumenti tecnico-scientifici per arrivare ad avere una strategia nazionale sul tema della qualità dell'aria indoor. Abbiamo fatto gli ultimi due documenti proprio sul tema delle strutture sanitarie delle scuole oltre a una brochure molto divulgativa dove si cerca di sfatare alcuni dei principali miti legati al tema della qualità dell'aria indoor e il primo in assoluto è il profumo indicatore di pulizia. No, la pulizia non ha odore, quindi spesso quando si entra all'interno di molti edifici o anche all'interno di molte abitazioni abbiamo quest'ondata di bouquet di prodotti profumati che già ci danno un'indicazione di un ambiente che presenta tutta una serie di sorgenti di contaminazione che per le persone che sono vulnerabili possono rappresentare un ulteriore aggravio per lo stato di salute. Alcune considerazioni che vi lascio e poi rimango a disposizione per eventuali domande. Grazie mille.